Musica Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo, ci troviamo oggi a Oggiona con Santo Stefano, a Rifugio Carabelli e siamo in compagnia dei nostri amici del Terremoto Tour, chiediamo direttamente a loro di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto presentiamoci, tu sei? Ciao a tutti, io sono Andrea, ciao a tutti, io sono Nunzio, ciao a tutti, io sono Pino. Bene, chi comincia, chi ci racconta un po'? Allora, il Terremoto Tour è una festa ma principalmente un viaggio, un viaggio che ci porterà da Oggiona, qui, fino a Norcia per vedere dopo un anno dal terremoto cosa è rimasto e cosa troveremo. È una missione che noi ci siamo posti per cercare di aiutare in qualche modo delle aziende in difficoltà per colpa del terremoto. Il Terremoto Tour nascerà il 28 di maggio, quindi questa domenica. Siete tutti invitati perché abbiamo organizzato una festa di beneficenza grandissima dove ci sarà tutto per bambini, per i grandi, tre gruppi che suoneranno dal vivo, un DJ set, un'esposizione di macchine mezzi storici, avremo delle vespe, insomma una grandissima festa e tutto il ricavato verrà dato in beneficenza perché noi del Terremoto Tour stiamo appoggiando un progetto di Lega Ambiente, un progetto che si chiama Rinascita Cuore Giovane con lo scopo appunto di aiutare delle aziende che per colpa del terremoto sono in difficoltà. Quindi cosa dire altro? Mi raccomando, 28 di maggio, Oggiona con Santo Stefano, Rifugio Carabelli, vi aspettiamo. Domenica 28, da mezzogiorno a mezzanotte, siete tutti invitati al... Terremoto Tour!